Sento buona questa, Lazzari, 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 entra Naga, la scarica, bello lo scambio, Lazzari, Lazzari, tirano, lo batto, Miracolo di Perin, Miracolo di Perin al secondo minuto su un sinistro venenosissimo di, appunto, di Ciro e Immobile, metto il gioco e palla per Lulic, siamo sul lato di sinistra, Lulic, vediamo se crossa, per via orizzontale per Milicovic, Milicovic, Lunetta, Lunetta, verticalizza, Correa, Correa, ripetono, Lazio il vantaggio strameritatamente, anche un po' di fortuna perché ha avuto il rimpallo favorevole del Pupo, Correa, anche Lulic a dare una mano, Immobile, Lazzari occupa con grande intelligenza lo spazio, Lulic, Lulic per Luis Alberto, palla dentro, arbitro, questo è rigore, calcio di rigore per la Lazio, calcio di rigore per la Lazio, Ciro e Immobile, prende la ricorsa, la stoccata, GOOOOOO! Aveva sbagliato il rigore, era importante per un motivo psicologico, questo calcio di rigore, Ciruzzo e ragazzi, Ciro e Immobile è ufficialmente, ancora di più, ancora una volta nella storia della Lazio, 149esima rete con la maglia della Lazio, indovinate un po' come Silvio Piola, no, ha coperto malissimo Lulic, che proprio ha ceduto fisicamente, autorete, autorete, di Marusic, ma... ogni volta è con voi... Lazio, di palla rubata, Lazio, Correa, Correa, Lazio scatenata, Lazio incacchiata, palla per Immobile, 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 l'appoggia per Luis Alberto, l'arri di rigore, Luis Alberto, la piazza, GOOOOOO! 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 Un gol meraviglioso, una magia, una magia! Bravo Marusic, che strappa la palla, l'attenzione del back da Lazio, Correa, guarda come corre la Lazio, Ciro e Immobile, 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 c'è anche vista aperta la sua sinistra, Ciro e Immobile, appoggia per Luis Alberto, la palla scaricata per Correa, l'azione bella, perché l'abbiamo incantata, Correa, Tiro! GOOOOOO! GOOOOOO! La Lazio cale il poker! Utt, bravo Utt, sta evitando anche la sua prestazione, pulitissima, poi Marusic, Ciro e Milico, il ciro esterno per Correa, colpo dei tacco per Immobile, che mette in moto Luis Alberto, questo è altro che Playstation, onda bianco celeste, 4 contro 4, Luis Alberto, arriva di rigore, arriva Immobile sulla sinistra, e là, Immobile, il tiro! Palla fuori da un soffio, applaudi a scena aperta questa Lazio. Scamacca, tiro, grande gol, centrale, grande gol, io... Attenzione perché Genova cosa fa pericoloso, tiro... Ragazzi, gol del Genova, 4 a 3, non ci credo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!